Ancora un'altra restituzione al parco archeologico di Pestum. 200 monete antiche sono state fatte recapitare da un ladro pentito che dopo essersi confessato da un prete di una parrocchia del territorio salernitano ha fatto consegnare proprio tramite il sacerdote una busta con il bottino trafugato indirizzata personalmente al direttore Gabriel Zucktrigel. Materiali originali misti con falsi, ora oggetto di studio, bronzi della zecca di Pestum del III secolo a.C. fino all'età augustea, follis e frazioni di follis compresi tra la metà e la fine del IV secolo a.C. Non mancano alcuni bronzetti di Poseidonia, di Velia e di media età imperiale. Ogni tanto accadono queste restituzioni. Alcuni anni fa un signore dagli Stati Uniti ha fatto il viaggio fino a Pestum per consegnare una statuetta d'avorio che aveva preso quando era bambino qui a Pestum in vacanza. Adesso una nuova restituzione molto importante per la quantità di materiali, più di 200 monete che possono essere adesso oggetto di studio, di musealizzazione, di valorizzazione. Noi facciamo l'appello a tutti che dovessero ancora avere delle cose a casa, delle cose antiche, consegnatele alle soprintendenze, al museo più vicino, ridate un pezzo di storia al vostro territorio.